Per occuparci di coronavirus, intanto la cronaca è indagato per eccesso colposo di legittima difesa il carabiniere che a Napoli ha ucciso un bevi rapinatore. Il sedicenne stava tentando di rubargli l'orologio. La famiglia accusa, colpito alle spalle, i parenti devastano l'ospedale. Poco fa fermato il complice, anche lui è un minorenne, l'inviata Giulia Serenelli e poi Caterina Proietti. Stava parcheggiando la sua auto qui, quartiere Santa Lucia a Napoli. Un carabiniere in borghese, fuori servizio, accanto a lui la sua fidanzata. Quello che accade, pochi istanti dopo, è nel suo verbale. Racconta di un ragazzo in motorino, casco integrale in testa, che tenta di rubargli l'orologio. Gli punta contro una pistola, sente scarrellare, non può sapere che quell'arma è finta. Un'esatta replica di una Beretta 92. Si difende e spara. Noi abbiamo sentito soltanto due spari, l'urlo di una donna. I colpi saranno tre, confermano fonti della procura. Il primo al petto, Ugo Russo, muore in ospedale a 16 anni, 23. Il carabiniere che lo ha ucciso. Ora è indagato per eccesso colposo di legittima difesa l'inchiesta affidata agli stessi carabinieri. Ora saranno le perizie balistiche, le immagini delle telecamere, l'autopsia. A dire come sia stato ucciso il giovane, ci sarebbe anche un testimone. Nella notte, davanti a questa caserma, qualcuno spara quattro colpi in aria. Un avvertimento al complice del rapinatore, anche lui minorenne, 17 anni. Dentro i carabinieri stavano ascoltando i suoi familiari. Nello stesso momento, parenti e amici della vittima distruggevano il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. La mattina dopo, la famiglia di Ugo è in lacrime, bacia la sua foto e chiede giustizia. Qualsiasi cosa abbia potuto fare, non è giustizia prendere un'arma da fuoco e sparare a sangue freddo a un ragazzo di 16 anni. Ha fatto una sciocchezza e ha pagato con la vita. La famiglia accusa è stato colpito alle spalle. Perché se viene sparato alle spalle significa che tu stai già scappando. La nostra intervista si interrompe poco dopo. Il cameraman viene aggredito con un calcio e un pugno dal fratello della vittima. La stessa rabbia che i familiari di Ugo hanno sfogato dentro l'ospedale. Hanno devastato completamente l'area, arredi, apparecchiature, tutto quello che gli è passato di mano. C'è chi ha afferrato un estintore.